Ciao, sono Gianluca Bocci e il video di oggi è da da un bel po' che volevo presentarmi perché nel corso degli ultimi anni mi sono arrivate decine, anzi penso centinaia di domande da parte vostra in cui mi chiedevate ma cos'è meglio comprarsi una reflex o comprarsi una mirrorless? Effettivamente, dati alla mano, questa è la statistica del CIPA del 2017, dice che su 11 milioni di fotocamere ad ottiche intercambiabili prodotte, 7 milioni erano reflex e 4 milioni erano mirrorless, quindi queste due categorie si stanno rincorrendo, anzi ti chiedo subito, scrivimi nei commenti se secondo te nei prossimi 10 anni chi sarà a vincere? Le reflex, le mirrorless oppure sarà un pareggio? Dimmelo, io a fine video ti dirò qual è secondo me e ne sono davvero molto sicuro il vincitore da qui a 10 anni, vincitore ovviamente sul mercato, cioè chi effettivamente sarà il leader del mercato da qui a 10 anni e in questo video ti voglio portare avanti nel ragionamento facendo anche un mini corso di fotografia e una mini assaggio della mia collezione di fotocamere. Nelle mie collezioni ne ho ben 50, qui ne ho prese 2, 4, 6, 7 e te ne parlo in dettaglio. Allora innanzitutto partiamo da una cosa, secondo me per portarsi a casa una buona fotografia bisogna tenere sotto controllo 5 elementi che sono il soggetto, l'inquadratura, il momento, l'esposizione e la messa a fuoco. L'ordine di questi 5 elementi, chi di voi ha frequentato il mio corso base gli hanno parlato in maniera molto dettagliata, l'ordine è importante perché noi possiamo fare anche un'ottima messa a fuoco, un'ottima esposizione, scegliere il momento giusto e inquadrare in una maniera migliore ma se il soggetto non va, non è interessante, non è intrigante la foto non sarà una buona foto. E quindi fin da quando è nata la fotografia, che sono nate le macchine fotografiche, il principale interesse è di capire dove sto mirando, dove sto puntando la mia macchina fotografica. Perché se sto facendo il ritratto a una bella ragazza, io nella foto voglio vedere la bella ragazza, non il muro a sinistra o l'albero a destra. Quindi fin dalla prima macchina fotografica, in questo momento ho anche in mano questo libro bellissimo e rarissimo. Anzi, se volete vedere i miei consigli di libri di fotografia, lo rimando qui sopra. Questo è un libro particolare di Brian Coe, introvabile, io l'ho preso usato da una libreria inglese, quindi l'avventura incredibile, che parla della storia dell'evoluzione della fotocamera, quindi parla proprio di strumenti. Ed è all'interno corredato di disegni stupendi. Questa è la prima macchina fotografica, quella appunto di Daguerre. Risaliamo al 1839, ovvero il classico banco ottico che vediamo qui. Allora, mirare con il banco ottico non è così semplice, perché abbiamo dietro il vetro smerigliato su cui compare l'immagine poi rovesciata sia in verticale che in orizzontale, serve un telo scuro per riuscire a inquadrare bene, insomma è davvero scomodo. Soprattutto perché una volta che inseriamo l'elemento sensibile che va infilato qui dietro, vi rimando questo video della prova della stenopeica in cui vi mostro tutto il procedimento con cui si scatta ancora oggi nel 2018 con banco ottico e quindi inquadrare era una cosa davvero scomodissima. Nel corso degli anni sono state scelte vari metodi per inquadrare, alcuni più approssimativi. Vi faccio vedere questa carinissima fotocamera giocattolo, una micro 110, che vede questa cornicetta che ti permetteva di traguardare, di avere un'idea molto approssimativa di dove appunto stavi mirando la fotocamera. Sistema che poi in realtà si trovava su fotocamere fighissime, questa è la classica fotocamera da gente segreto. La Minolta 16, ancora perfettamente funzionante, si chiudeva e apriva per caricarla, sentite il clic, e arriva tempi e diaframmi tutti, però appunto questo è il mirino in cui appunto vado a inquadrare e questa però è l'ottica effettivamente che va a scattare, cioè il cosiddetto errore di parallasse, quindi l'inquadratura rimane approssimativa, specialmente se avviciniamo molto al soggetto rischiamo di non avere effettivamente del soggetto dove vogliamo noi. Se vogliamo anche prodotti prestigiosi come la mitica Leica M3 ha il telemetro, però lo stesso, io sto inquadrando da qui mentre sto scattando da qui. Cosa succedeva spesso quando si fotografava con queste fotocamere è che se io mi dimenticavo il tappo, il mirino è libero perché appunto qui, e faceva la foto nera perché c'era il tappo davanti. A un certo punto arrivarono però le cose un pochettino fatte meglio, come per esempio la biottica. Questa è la Minolta, Minolta è un marchio che amo, si chiama Autocord CDS3 perché aveva l'esposimero alla cellula di Selenio, questa macchina che faceva un'ottica per fotografare, un'ottica sopra per inquadrare, quasi perfettamente identiche, quasi perfettamente lineate, vedete quando io mettevo a fuoco, vedete, si spostano insieme e in questo modo l'inquadratura a pozzetto da sopra verso il basso si riusciva ad avere un'inquadratura abbastanza precisa. Però ragazzi, l'inquadratura perfetta è, sì, l'avete vista in copertina, è quando arriva lei, la macchina fotografica Reflex. Che vuol dire Reflex? Vuol dire che all'interno, ve lo faccio vedere qui smontato, c'è uno specchio, quindi in realtà noi abbiamo sopra un mirino con un pentaprisma, quindi la luce, l'immagine che viene ripresta dall'obiettivo, passa per questo specchio, viene mandata all'altro e noi mettendo l'occhio sul mirino, quindi guardiamo esattamente all'interno dell'ottica che stiamo utilizzando. In questo modo l'inquadratura e ovviamente la messa a fuoco sarà assolutamente perfetta. A un certo punto è arrivato il digitale e cosa hanno detto con l'evoluzione digitale? Ma perché non eliminiamo appunto lo specchio e il pentaprisma per avere una macchina più compatta e più leggera? Ok, sono nate le mirrorless, che letteralmente in inglese vuol dire senza lo specchio. Però qual era il problema all'inizio? Avevano tre gravi problemi. Il primo è che in realtà lo specchio reflex nel suo insieme c'è anche il sistema di autofocus ben fatto, quello a rilevamento di fase, quindi veloce e preciso, che funziona sempre anche con lo specchio abbassato. In realtà lo specchio lascia passare una parte di luce che va appunto sul modulo dell'autofocus e quindi l'autofocus è sempre funzionante, veloce e preciso. Elimina lo specchio e elimini l'autofocus a rilevamento di fase. E questo è stato il primo problema. Secondo problema, il mirino. Il mirino c'è ovviamente nelle mirrorless, ma è di tipo elettronico. Nelle prime macchine era un mirino che faceva onestamente pena, quindi immagine sgranata, immagine con un refresh basso, quindi si vedevano i saltelli dell'immagine, specialmente nel c'è poco luce, davvero sgradevole visivamente. Ultimo problema, la batteria. Il sensore nel macchine reflex digitale è acceso soltanto al momento dello scatto. Nelle mirrorless, per poter vedere e inquadrare, è sempre sempre acceso e quindi va a consumare le batterie. Quindi all'inizio nessuno avrebbe mai pensato di utilizzare una mirrorless in ambito professionale, però la tecnologia va avanti. Che è successo? Hanno creato i sensori delle mirrorless che integrano al loro interno il rilevamento di fase. Quindi messa a fuoco precisa e veloce anche sulla mirrorless. I mirini sono migliorati. Sono arrivati addirittura, per esempio la Panasonic G9, vi metto qui sopra il link, la sua prova, a 120 frame per secondo. Quindi un mirino che non fa rimpiangere minimamente. Poi cosa facciamo? Batterie, ok? Batterie sono migliorate e poi ne mettiamo dentro tre, come nel caso della Fujifilm X-H1 di cui vi rimando la prova qui sopra. E quindi risolto anche il problema dell'autonomia. Quindi che succede? Le mirrorless come prestazioni non hanno nulla da far invidiare nel 2018 alle reflex. In più il mirino. Ragazzi, nel mirino elettronico io posso avere quindi non soltanto la certezza che sto inquadrando e mettete un fuoco nel punto giusto. Non solo, essendo un mirino elettronico posso avere anche un'anteprima reale del bilanciamento del bianco e dell'esposizione. Che queste due cose, ragazzi fidatemi, fanno la differenza. Nel senso che io nella mirrorless ancora prima di premere il tasto di scatto posso avere l'anteprima al 100% di quello che sarà lo scatto finale. E per il professionista che sta male facendo delle foto di matrimonio, che vuol dire? È che al momento di scattare sa già che la foto è perfetta, non dovrà perderci tempo dopo in postproduzione. Quindi cosa vuol dire per un punto che fa un matrimonio? Quando dovrà poi andare a fare la postproduzione? Se è sicuro che lo scatto è perfetto al momento appunto della ripresa, vuol dire che invece di fare 100 ore di postproduzione dovrà farne male soltanto 10. Tempo risparmiato, maggiore guadagno, maggiore tempo a dedicare alla famiglia, all'amici, alla partita di calcetto e via dicendo. E quindi, e qui siamo alla conclusione, ragazzi secondo me tra 10 anni le reflex saranno diventate il 10% e le mirrorless saranno il 90% del venduto. Questo perché appunto comunque il mercato lo fanno i professionisti. E i professionisti vogliono avere uno strumento, perché la reflex è uno strumento, la mirrorless è uno strumento, tutti questi sono strumenti. Uno strumento che gli assicura di avere la certezza del risultato. Il professionista non è l'artista della fotografia, lui vuole che se faccia, se fa 100 foto, siano 100 foto fatte bene. Quindi l'evoluzione della tecnologia sta dicendo che comunque lo specchio reflex e il pentaprisma, oggetti bellissimi di meccanica e di ottica, comunque sono il passato. Un buon mirino elettronico comunque gli dà al professionista maggiori vantaggi. Questa è la mia opinione. Ovviamente, ve l'ho già detto all'inizio, utilizzate i commenti per dirmi cosa ne pensate. Secondo me, venite da qui a 10 anni, avremo la certezza. E quindi, cara mia reflex, ciao ciao! Se non siete iscritti, ragazzi, ci siamo, il bollino è sempre l'inalto. Vi suggerisco un altro video di me qui a fianco e quindi da Gianluca e comunque dalla mia collezione di macchine che sono sicuramente un bel nostalgico, prendo lei che era di mio nonno. Ciao e alla prossima! Grazie!